Ciao a tutti e bentornati su Football Manager 2018, benvenuti alla prima vera partita di questa stagione. Abbiamo fatto un grande, secondo me una grande campagna acquisti, ho ancora qualche dubbio sulla formazione, adesso vedrete il perché. Iniziamo con una partita fondamentale, la prima partita di Champions che è il nostro grande obiettivo di quest'anno, cercare di far bene in Champions League, inizia con un girone di ferro, con l'Osaka che ha vinto la Champions l'anno scorso, con il Pohang Steelers, grande squadra della Corea del Sud, e con il Kichi di Hong Kong che probabilmente è il classico vaso di coccio tra vasi di ferro, vedete che loro miglior giocatore, un difensore che da noi non sarebbe neanche riserva, anche se insomma può succedere veramente di tutto. Oggi si inizia con il Pohang Steelers. Allora, vi faccio vedere cosa ho pensato, cosa ho pensato, ci ho studiato, ci ho pensato, ma io giocherei, proverei a giocare con il 4-2-3-1. È vero che adesso Aujunmin non è ancora esattamente, oggi sta avanzato di supporto forse meglio, non è ancora esattamente il giocatore che vogliamo, ma dall'altra parte, dall'altra parte, qua potremmo addirittura provare intanto come contropiede, contropiede. Ma dall'altra parte, è anche vero che in questo modo si lascia meno solo Carneiro, si riesce a giocare anche per vie centrali, e un giorno rientrerà Zhang Zigzeh, che credo ne abbia ancora per 2-3 settimane. Porco cane, quanto tempo! 2-3 settimane, vabbè, e dovrebbe diventare titolare lì in mezzo, quindi insomma, secondo me è una cosa assolutamente fattibile. Dobbiamo decidere i numeri di maglia. Allora, mancano un bel po' di numeri, direi. Allora, Liu Juwei che è portiere, gli diamo il 12, direi. Vediamo un attimino chi è, i numeri ce li ha già, si tiene i suoi. Vediamo un po'. Gonzalo Carneiro, c'è un bel numero da prima punta, c'è l'11, perfetto. Zhang Zigzeh, ti diamo il 10, volevo proprio darti il 10, perfetto. Poi, Yashir Alashani, ah, che fa tutor, gli diamo il 3, ok. E poi, boh, gli altri gli diamo assolutamente casaccio. Liu Bin Bin era un altro che potevamo dare un bel numero, gli diamo il 13, 18, e bon, e chiudiamo così, senza stare a guardare più di tanto cosa avanza. Ok, direi che abbiamo assegnato tutti i numeri. Perfetto. 12.400, dovremmo crescere ancora leggermente. Bene così. Annunciati i numeri di maglia. Accidentemente non ha segnato l'11. Quote per il titolo di capocannoniere. Dei nostri non ce n'è nessuno, credo, vero? No. Brown Hideye, quello considerato più facilmente del Tianjin. Eh, un bel giocatore, eh. Un po' vecchiotto. Anche loro giocano con il 4-2-3-1, peraltro. Allora sarà una bella partita, molto aperta. Hanno un centravanti che non è male, eh. Gocano con... Ah, in realtà giocano con una mentalità... Contropiede anche loro, strutturata. Credo che giochino in realtà sulle ali, vero? Vediamo come attaccanti esterni, finalizzazione 9. In realtà no. Non hanno un grosso finalizzatore, a meno che non siano gli inserimenti di Kim Jong-un. Kim Jong-un. Quando viene in mezzo tra un lottatore di arti marziali e Kim e un dittatore nordcoreano, ma... Ma, insomma. Insomma. Vedremo. Vedremo un pochettino cosa esce fuori. Va bene. Il Milan sta reggendo, anzi, forse ha aumentato il suo distacco dalla Juve, eh. Questo è l'anno del Milan. Sarà il Milan a interrompere, a quanto pare, il dominio juventino. Non ci interessa. Il Guizu che è appena tornato. Quoto è il miglior giocatore. Lucas Moura viene dato come probabile il miglior giocatore. Lui sarebbe un bel acquisto. Lui... Centrocampista... No, beh, in realtà no. Non ci sarebbe... Cioè, sì, per carità è un bel acquisto, ma... Non è il ruolo che ci servirebbe di più. Ah. Lui sarebbe stato... Ma no, neanche tanto. Più centrocampo. Fressibile strutturata. Va bene. Proviamo. Proviamo a partire con contropiede. Buona afflienza. Shandong e Ponghang. Veniamo dati favoriti. Un nuovo record di partite senza sconfitte. È imbattuto da nove partite. Minchè, come vi ricordate, la cavalcata dell'anno scorso, santo cielo. È molto importante, anche perché giochiamo in casa. Non ci saranno movimenti di alcun tipo. Assolutamente chiudiamo qua il nostro mercato. Anche perché siamo già nel pieno. Kudo vuole... Oh, l'Est Galle contro l'Arrayan. È la prima partita e vince l'Est Galle. Direi che... I Gongsu acquista Yu da Bao. La punta Yu da Bao, parametro zero. Vada. Dobbiamo decisamente provare a iniziare bene, eh. Salta a riunione. Tra l'altro io, teoricamente, le sto saltando perché sono a un corso. Sono a un corso in questo stesso momento. Il premio di miglior giovane potrebbe andare al nostro Xiaowei Ping. No, non è il nostro Xiaowei Ping. Noi abbiamo qui Zudong e Xiaowei Ping è quello che abbiamo cercato di prendere, se non sbaglio. Che non siamo riusciti in nessun modo. E vabbè. Amen. Ci penseremo poi. Premio e vittoria da definire. Direi... Alti, tutti e due. Ma sì, tanto il fondo non serve a niente in questo momento. È il nostro fondo investimenti, anzi. Il prossimo anno al limite venderemo Graziano Pellè. Bene. Liubin vineabile. Cao Gianjun non è recuperato. Continuo. Anteprima. Formazione. Proviamo questa formazione nuova. Ci lanciamo in questo modo folle. Zeng Zeng. Oggi un miglia. Li Shang e Zeng Long non sono in forma partita. Eh, lo so, ma tanto sono tutti non in forma partita, ragazzi miei, eh. Zeng Long è... 69 di forma partita perché purtroppo non giocava a titolare. Ne hanno giocato troppe poche partite. Questo è un grosso problema. Sfogliatoio. Parla la squadra. Dimostrate che i suoi dei biglietti sono ben spesi. Non è servito un cazzo. Benissimo. Andiamo a giocare. Oh, un'altra partita con la... Una squadra con la maglietta azzurra. Virgin Gara. Kim Seung Dae. Dentro per... Porco cane. Non è che se alla prima azione ce ne facciamo sfuggire due così. Zeng Zeng. Zeng Long per rischio di perdere palla. Hao Jun Min. Liao Li Shang. Kui Zudong. Largo per Liu Bin Bin. Che rischia di perdere anche lui palla. Sono abbastanza aggressivi loro. Zeng Zeng. Zeng Long. Liao Li Shang. Hao Jun Min. Carneiro dentro per Liu Bin Bin. Mamma mia però che bello sto schema. Con sta palla giocata così. E Liu Bin Bin è arrivato veramente sparato. Avremmo assolutamente meritato di farlo quel gol lì. E Shike già ti fa ammonire, santo cielo. Guarda che la tua riserva è un ragazzino. Non far cagate. In effetti potremmo prendere un altro difensore forte. L'altro hanno tirato più l'oro. Però non li ha fatti vedere. L'Osaka sta battendo il chi c'è. Chi c'è. E non facciamo più niente. Proviamo a spingere un poco. Non stiamo facendo niente. Birgine di rama. Questo spara alle stelle. Sono tornati in quarta posizione. Perché probabilmente... Ah, perché hanno pareggiato? Davvero? Hanno pareggiato? Bravi il chi c'è che pareggia. Bravi. Aspettate un attimo, va. Distruzione in squadra. Non posso di giocare la palla negli spazi. Andiamo a dirgli di affrontare la difesa e palla al piede. Vediamo cosa ne esce fuori. Il carnero prova a lanciarsi un poco. Minchia quanto sono già stanchi i nostri. Immagino che se di nuovo ho ripassato in vantaggio l'Osaka, infatti. Ero più contento di rimanere in quarta con l'Osaka che pareggiava. Alla Shrani. Hao Jun Min perde palla. Ma come ho perso palla malamente? Kim Jong-go. Miringama. Kim Seundae. Dentro per Shion Go. Shin Dong-won. Ribattuto. Hao Jun Min ripartiamo. Zeng Long. No, non ripartiamo. Sì, però, sto primo tempo l'hanno dominato loro, eh. Persi molti parole in zona centrale e centrocampo. Ho faticato a tenere il possesso palla. Eh, no, ragazzi. Non ci si palla. Non va bene così. Ritogliamo il 4-3-3 Ticaveca. E invertiamo forse loro due, se non sbaglio. Sì, perfetto. Eh, peccato. Non abbiamo decisamente funzionato. Speriamo con un'offensiva. Vabbè, non lasciamo un'intensità così alta. Facciamo uno standard. Va bene. Spogliatoio. Parla alla squadra. Cerchiamo di vincere l'incontro. Eh, no. Non ha funzionato questo 4-2-3-1. Bisogna tornare alle vecchie idee. Jill. Hao Jun Min. Carneiro. Carneiro largo per Liu Bin Bin. Liu Bin Bin. Fuori. No, non ce la fa vedere. Era un'impressione. Hao Jun Min. Pallone dentro. Liberano loro, ma non c'era nessuno dei nostri a battere. L'ha battuto proprio male. Liu Bin Bin. Jill. Quizu Dong. Alle stelle. L'Osaka sta sempre vincendo. Sì. Birin Gama. Kamsang Wu. Shin Dong Won. Birin Gama. Io sono preoccupato perché per carità siamo un po' fuori condizione. Però. Birin Gama. Kum Sun Daeng. Portiere. La tocca. Ma credo che stesse già andando fuorissimo. Ho la mia impressione. Kim Jong-un. Che non è colui, ma pazienza. Le We. È un chul. Zeng Zeng. Ripartiamo. Non ripartiamo. Andiamo a spingere un po'. Voi mi direte, con una squadra che fa il contropiede. Forse non è il massimo. Birin Gama. Kim Jong-un. Kamsang. Zeng Zeng. Rigore. Porca. Non lo sapevo. Era palesemente rigore quella roba. Sì, non me lo buttare fuori. Ecco, ha munito. Sì, anche perché sul rigore non puoi buttarmelo fuori se non ha fatto proprio una roba violenta. Grande portiere. Grande portiere. Oh. Bravo. Non è mai imparato un rigore al nostro portiere? Non mi ricordo. Tattiche. Primo cambio. Dentro Pelle. Al posto di Carneiro. E... Basta. Zeng Zeng. Però lasciamo così. Istituzioni squadra. Va bene così. Nulla. Ritorniamo a noi. Vediamo se con Pelle si crea qualcosina in più. Eh, è nervoso ragazzo mio. Non hai fatto una gran bella figura, eh. Comunque. 65esimo. 67esimo. Hang San Wu alle stelle. Chio. Chio. Wu. Madonna, quanto è arrivato solo! Quanto abbiamo sbagliato? Ah, hanno ripareggiato! Grandissimo il Kicci che ha ripareggiato. Beh, alla lunga di questo, con pareggio potrebbe andare bene. Vero che siamo in casa, però... Ha giocato decisamente meglio loro. Guardate che terribili numeri che abbiamo subito. Cambiamo un centrocampista. L'Osa che è ripassato in vantaggio. Wen Jiabao. Mettiamolo al posto di Hao Jun Min. Non sarà il nostro miglior giocatore, ma... Ha bisogno di mettere qualcuno al centrocampo, qua. Bigrimara. L'Iauli Scheng ruba palla. La pelle è fallo. Dai che fallo. E lo butta fuori. Oh, bravi. Adesso spingiamo un po'. Tutto per tutto. Tattiche. Facciamo un altro cambio. No, lasciamo l'oro, dai. No, vabbè. Al posto di Zeng Long buttiamo dentro... Wei Shiwao. Confermo la sostituzione. E spingiamo, ragazzi. Spingiamo. È il momento di provarci. È il momento di provarci. Ottantanovesimo. Su, ragazzi. Minchia, Losaka ha preso il largo. 5-2. Su Song. Jeon Wong. Bae Sel Kyuk. Kim Seong Dae. Cross dentro. Dall'altra parte. Recupriamo un po' veloce Alashrani. Alashrani. Pallone lungo per Pelle che non la intercetta. Liu Bin Bin. Ancora per Pelle che però è lento. Lì ci voleva Carneiro. Porco cane. Io l'ho tolto. Liao Lisheng. Pui Zudong. Cao Zhang Jun. Fallo. Cao Zhang Jun. Pelle. Zeng Zeng. Dentro ancora. Ancora Zeng Zeng. Cross dentro. Ribattuto. Alashrani. Stiamo giocando malissimo. Stiamo giocando malissimo. Jill. Cao Zhang Jun. Tra i minuti di Curious Di. Cao Quizu Dong. Liu Bin Bin. La crossa male. Ma quanto crossate male. Gol. No. Peccato. Ma quanto crossate male. Santo cielo. Minchia. Sono i fondamentali. Shike. Cao Zhang Jun. Quizu Dong. Xiaowei. Zeng Zeng. Xiaowei. Xiaowei. Pelle. Pelle sfonda la rete. Pelle sfonda la rete. Porco cane. L'abbiamo fatta alla fine sto gol. Olè. Xiaowei. Zeng Zeng. Assolutamente non meritata. Sta vittoria. Ve lo dico subito. Xiaowei. E Pelle. Boom. Che sfonda la rete. Ha fatto Xiaowei. E sto. Xiaowei sto gol. Però. Quizu Dong. Rubiamo pallone. Cao Zhang Jun. Ancora Xiaowei. Fuori. Con calma. Però. Non mi aspettavo che entrasse così bene Xiaowei. Zeng Zeng. Quizu Dong. Zeng Zeng. È vero che è fresco. Per carità. Liu Bin Bin. Liu Bin Bin. Larghissima. Fuori. 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 Dai che però va bene. Dai che però va bene. Facce la finire sta partita. Yong Won. Ed è finita. 1-0. E iniziamo benissimo la Champions. Abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato benissimo la Champions. Siamo stati fortunati per questa espulsione. Peraltro in pochissimi minuti. E per avere se non altro azzeccato i cambi. Visto che chi è entrato ha fatto assist e gol. Spogliatoio. Panna alla squadra. Appassionato. Una gran bella vittoria. Ben fatto. Va bene. Bene. Così. Abbiamo iniziato bene. Abbiamo iniziato bene. Ci sono state un sacco di vittorie nette. Praticamente pareggi neanche uno. Alla fine l'Osaka poi ha vinto 5-3. Neanche ne ha preso un botto di gol. 5-0 la Shabab. Teraktorsasi. Dovete venite voi? Ah dall'Iran. Ma che roba strane. Ah benissimo. La Shabab mi ha debuttato. L'abitro stavolta ha scelto correttamente. Fa sempre piacere cominciare col piede giusto. Questa l'essenza del calcio è stata una gioia assoluta. La Shabab mi ha fatto una buona partita. Su Song è stato strepitoso oggi. Il portiere. Ah ha parlato un rigore vero. È stato un migliore in campo. Assolutamente impeccabile secondo me. Shang Dong riceve 42. 1.000 euro. Non ci sputtiamo sopra. Ok. Gonzalo Carneiro. Gonzalo Carneiro deve giocare un pochettino meglio. Eh ragazzo mio. Lo farai. Nelle prossime partite. Va bene. Direi che l'esperimento 4-2-3-1 per ora andrà accantonato. Vedremo nelle prossime partite cosa fare. Intanto. Secondo me. Abbiamo iniziato col piede giusto la Champions. E questa. È la cosa migliore. Ragazzi. Ci vediamo domani. Domani ci aspetta la Supercoppa. La Supercoppa contro lo Shang Gang. Che credo sia l'obiettivo meno utile della stagione. Ma. Va bene anche quello. Dobbiamo vincere anche quello. Shang Gang che peraltro ha vinto 2-1 col Saitama United. In Champions League. Esattamente. Oggi. Esattamente come noi. Quindi arriveremo tutti e due. Credo abbastanza stanchi. Tutti e due tesi da un'altra partita. Anche se loro giocheranno col Pert Glory. Quindi una squadra decisamente meno forte. E noi giocheremo invece contro l'ex vincitrice della Champions Oceanica. Ma così va il calcio. Ci vediamo domani. Sempre qua. Su Football Medagina 2018. A domani. Ciao ciao. Ciao ciao.